Questo è un modo per muovere un pochino la maglia. Allora dottore, innanzitutto congratulazioni perché io da dieci anni come attività principale mi occupo di divulgazione del benessere psicologico, per cui per me lei ha scritto un testo che ha un'importanza veramente come una Bibbia. E' ancora più importante perché sappiamo che c'è uno scollamento importante tra i giovani e le famiglie e quindi i genitori non sono sempre quasi più punti di riferimento. Questo libro potrebbe essere uno spunto di riflessione importante.